Ben trovati in redazione. In questo appuntamento parliamo di Pietro Maso, autore di uno degli omicidi più efferati degli anni 90. In un'intervista esclusiva a Canale 9 torna a far parlare di sé e sottolinea come la condotta che ha tristemente caratterizzato la sua esistenza sia stata ispirata da un protagonista di Miami Vice, in particolare facendo riferimento a Don Johnson. Volevo stupire tutti, a tutti i costi, così ho fatto un gesto che nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare, ovvero uccidere i miei genitori. Il momento del folle gesto che sottolinea durante l'intervista a Canale 9 era nell'incessante bisogno di soldi per poter condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotteonline.it, vi ricordo la mail redazione.lanotte.gmail.com Aspetto le vostre segnalazioni di argomenti da poter trattare insieme e da approfondire in questa nuova rubrica della Notte Online con Maria Parente, caporiodattrice del quotidiano. Per il momento è tutto, vi auguro un buon proseguimento e grazie come sempre per avermi seguita.